Ariete Determinati a concretizzare alcuni obiettivi, non avete il cammino facilitato. Alcune dissonanze astrali rilevanti provocano uno stato d'animo meno ottimista, mentre si accentua un senso di stanchezza che vi priva di slanci produttivi. Rilassatevi e fate il punto della situazione. Toro Marte in angolazione positiva accresce la voglia di agire e l'energia, ma potrebbe rendervi un po' maldestri e irritabili. L'amore è silente e può emergere qualche contrasto con il partner, smorzando anche il senso di benessere personale. Ritrovate la vostra natura riflessiva. Gemelli Le configurazioni astrali che vi riguardano assumono posizioni di favore, accrescendo le opportunità di migliorare la vostra posizione e ricevere vantaggi in ambito lavorativo, ma anche nelle varie espressioni della vita. Saturno opposto vi limita un po', ma non è determinante. Cancro Confortati dagli affetti e dall'amore, non avete altrettanti benefici nelle problematiche lavorative o in altri ambiti di vita. Un quadro astrale faticoso reprime le vostre energie e mostra un percorso un po' in salita, anche se saprete come affrontare ogni situazione. Leone Grintosi e motivati, avete buone chance di realizzare un progetto che vi sta a cuore, inerente il lavoro o qualcosa che affermi la vostra personalità. Favoriti i contatti, le relazioni e gli spostamenti, mentre si crea una zona d'ombra per quanto riguarda i sentimenti, attualmente insoddisfacenti. Vergine Periodo gratificante per quanto riguarda la carica energetica e l'inclinazione ad agire più che a riflettere, con la sensazione di essere produttivi. L'appagamento sentimentale è una nota dominante che si tinge di passione per i nuovi incontri amorosi. Bilancia Non fatevi trascinare da pulsioni interiori cariche di energie in qualche eccesso che poi dovreste compensare con qualche disagio. Il vostro cielo è molto favorevole in fondo ottimismo e protezione, ma cercate di rimanere nei limiti delle vostre risorse. Scorpione Alietati da venere nel segno, siete inclini a pensieri edonistici di piacere personale e rivolgete l'attenzione più alle questioni amorose che ai doveri. Dotati di buon tono passionale elargito da Marte positivo, avete occasioni da vendere nelle vostre conquiste sentimentali. Sagittario Cambiano gli equilibri del vostro quadro astrale e adesso potete godere degli ottimi effetti di Giove per circa un anno attualmente affiancato da Sole e Mercurio. Forma fisica e mentale quindi che vi permette di rimettervi in pista dopo un periodo tormentato. Capricorno Grande fermento interiore per voi, pulsioni che risvegliano ambizione, energie e desiderio di emergere. Dovrete mettere in conto qualche tensione sollevata da dissonanze astrali che vi affaticano, ma il vostro rigore perseverante avrà successo a lungo termine. Acquario Forti di un assetto astrale decisamente favorevole, avete ottime opportunità da coltivare per realizzare un vostro obiettivo personale. Consapevolezza e motivazione sono potenti, insieme ad un buon tono vitale. Solo l'amore mostra al momento una flessione critica. Pesci Nettuno nel segno combatte con Saturno e sottolinea la vostra indecisione tra idealismo e materialismo, ma i positivi influssi di Venere e Marte esaltano la passione e i sentimenti, oscurando per un po' conflitti interiori o perplessità. Un momento da dedicare a chi amate. Buone stelle!